finita l'estate parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti e per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot chiocciola occhiopavese.it da settembre riparti con noi riparti con occhiopavese domenica 10 luglio dalle 15 alle 19 presso la sede dell'associazione voghera è in via cavallotti numero 16 ci sarà un pomeriggio all'insegna della musica una prova d'orchestra nel giardino delle idee questo è il nome insomma di questo pomeriggio e siamo con il maestro zanovello che è il direttore di questo orchestra ecco in cosa consiste questo pomeriggio ma diciamo che questo pomeriggio sarà una prova d'orchestra appunto con tutti i difetti rispetto ad un concerto quindi ci si ferma si riparte però vedendo la musica dal punto di vista della costruzione non solo dell'esibizione ma proprio della della messa in in atto diciamo di tutto quello che è stato studiato durante l'anno dai ragazzi dagli studenti dell'accademia e dai loro insegnanti perché la caratteristica pregnante della nostra orchestra è unire e mettere insieme i gli studenti con gli insegnanti proprio perché pensiamo che il lato educativo musicale prosegua oltre al diciamo al banco della dello studio in individuale ma soprattutto a leggio in orchestra quindi il nostro repertorio un repertorio molto variegato che vedrà musica tratta dall'opera over tour sinfonie rossiniane fino ad arrivare musica da film musica leggera e poter provare quanto questi due genere apparentemente così distanti sono in realtà molto simili ai vicini si sarà sicuramente molto bello perché in effetti la proposta è particolare soprattutto per una città come voghera che non vede spesso in cartellone eventi come questi questa orchestra fa parte di un'accademia l'accademia musicale Rossini e siamo con il presidente di questa accademia il signor Rizzo quali sono le caratteristiche e gli obiettivi di questa accademia musicale dunque l'accademia è fondamentalmente un luogo in cui un luogo di ritrovo di ragazzi ragazze vogheresi ma non solo anche dei dintorni accomunati più che altro da una passione la passione suonare insieme del voler condividere insieme una appunto una una passione e crescere insieme in questa passione e soprattutto fare un gioco di squadra non si pensa mai all'orchestra come in realtà una squadra vera e propria ma è un è effettivamente tutti gli effetti una squadra un gioco di squadra in cui ognuno ha la sua parte ognuno contribuisce alla riuscita del lavoro altrui cioè estremamente educativo i ragazzi già di loro sono propensi e interessati a questa attività molti di loro tra l'altro escono ed è un continuo un continuum dello studio che già fanno all'interno dell'indirizzo musicale della della plana di voghera o che arrivano addirittura da fuori dal dal territorio trovano soprattutto il maestro zanovello un colui che sa convogliare la loro il loro piacere verso la musica loro interesse nel trovano questo punto coinvolgimento nel riuscire a creare qualcosa di 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 unico che mai magari avrebbero pensato di poter realizzare l'evento del 10 luglio solo il primo di una serie di eventi in programma questo mese corretto sì infatti noi abbiamo inaugurato il giardino sabato 2 luglio l'abbiamo chiamato il giardino delle idee e le idee oltre diciamo ad essere così pensate all'interno dell'associazione vengono anche accolte dall'esterno ed è il caso proprio del primo evento del 10 luglio l'accademia rossini ci ha proposto di fare la prova d'orchestra il prossimo evento invece sarà il 15 luglio con una rappresentazione teatrale dell'under teatro con l'opera radio argo di igor esposito con la regia di bruno cavanna grazie prego grazie a voi